E' un segno d'amore, non un portafortuna. Perché balli come un angelo. Mi scusi, lei è Sarah Johnson? Sua madre è rimasta coinvolta in un incidente d'auto. Sai ballare? Ballavo. Deve essere stato difficile lasciare tutti i tuoi amici, dover dire addio a tanta gente. Come fai a torcere la gamba in quel modo? Una volta ballavo. Una volta ballavi? Niente di eccezionale. Io credo di sì. Ti va di vederci qualche volta per migliorare i tuoi passi? Sì, certo. Se vuoi. Fallo anche tu, fallo anche tu. Allora, non è da paura? Così, stai a baccato. Stai a baccato. Non vi capisco a voi due, insomma la cosa mi spaventa. Tu non devi capire. Lui è il mio amico, Sarah. Ho chiamato la Giulia per l'iscrizione. Le audizioni sono il mese prossimo. Allora prepariamoci. Un po' di sesso in quei fianchi, chiaro? Una volta mi allenavo tre, quattro ore al giorno. Non riuscirò mai a prepararmi in tempo. Che cosa vuoi? Vuoi la Giulia? Quello che voglio è svegliarmi e rivedere mia madre. Era il mio stupido sogno. Lei non voleva altro, solo che si avverasse. E scommetto che lo vorrebbe ancora. Puoi farcela. Sarah, tu sei nata per questo. Fammi vedere chi sei. Sono pica ora? Ci sei quasi. Sì.